Ti è venuta voglia di pane? Prepara insieme a me questa versione chetogenica. In una ciotola sciogli il burro, aggiungi l'albume, la farina di mandorle, la farina di semi di lino, sale e pepe e mescola bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto denso. Guarnisci con semi di sesame e semi di pepevero e cuoce al microonde per 90 secondi. Adesso il pane è pronto per essere consumato, puoi anche grigliarlo se vuoi in padella per renderlo ancora più buono. Io ho guarnito con maionese e fettine di salame, una vera bontà.